Ciao a tutti amici di Scuola di Musica Chiave di Basso e di Sound System Studio è settembre e si riparte con i nostri corsi di musica corsi di canto, canto moderno e canto jazz chitarra, acustica, elettrica, ukulele basso, contrabbasso, armonica blues, batteria di tutto, di tutto, più o meno di tutto ci trovate nelle nostre due fantastiche sedi intanto in via Ramazzini numero 2 al Sound System Studio dove siamo? esatto, è qui, siamo qui e anche in via del posto macinante numero 9 esatto, tra l'altro quest'anno ci sono grandi novità abbiamo un corpo insegnanti potenziato con tre insegnanti di canto nuovi oltretutto partiranno anche i corsi di teoria uuuuh oltre che ai soliti corsi anche di musica d'insieme e quindi vi invitiamo anche a visitare il nostro sito che è www.scuoladimusica.com oppure www.soundsystemstudio.com Carlo confermi? confermo perfetto, a posto quindi vi aspettiamo vi aspettiamo scriveteci, telefonateci quello che volete passate a trovarci le iscrizioni sono aperte tocca a voi rock and roll ciao! ciao! ciao Grazie a tutti.